Buonasera a tutti, purtroppo le mie attuali condizioni fisiche non mi permettono di mostrarmi nel modo in cui io avrei voluto e dunque mi nascondo dietro a questo schermo, ma vi prometto che sarò breve, però ci tengo a precisare alcune cose. Allora, secondo il mio modesto parere, fondare la campagna elettorale non sulla valorizzazione del proprio programma, ma sulla menzogna verso l'avversario, credo sia un segno di grande debolezza e questo è quello che Paolo Sardo, secondo me, ha dimostrato durante la presentazione della sua lista, ha dimostrato mancanza di progettualità, progettualità seria e credibile soprattutto e ha dimostrato il solito atteggiamento denigratorio di chi non ha altre armi. Durante questa campagna elettorale, mantenendo la parola che ci eravamo dati, perché proprio questo ci eravamo ripromessi di parlare sui programmi e non colpire le persone, siamo sempre stati corretti e mai infamanti. Gli attacchi sono arrivati sempre dall'altra parte e ci siamo dovuti difendere, dunque saremo costretti a farlo anche questa volta e questa volta senza sconti. dunque inizio a pensare che per lui sia difficile mantenere la parola, oppure i suoi pochi argomenti lo hanno costretto a parlare solo di noi. Il leitmotiv è sempre lo stesso, amministrazione per danzello, minoranza, libro dei sogni. Io ho già detto in altre occasioni che sono onorata di avere nel mio gruppo quattro candidati che hanno fatto parte dell'amministrazione per danzello, un'amministrazione che non ha creato i danni irreversibili di altre amministrazioni, come ad esempio la cementificazione selvaggia che ci ha portato purtroppo ad avere un target di turismo di livello medio-basso. Ha lasciato un bilancio attivo, ha realizzato diverse opere, tante altre le ha lasciate da ultimare e altre finanziate. Cosa si può dire sulla minoranza? Siamo sempre stati presenti in consiglio per tutti i cinque anni, cosa non sempre scontata. Abbiamo svolto il nostro lavoro con puntualità e con coscienza, nel rispetto del mandato che i cittadini ci hanno conferito. Il nostro ruolo non ha mai avuto il rispetto che merita, però. Abbiamo sempre chiesto di poter collaborare e creare le commissioni consigliari proprio per essere coinvolti direttamente nella macchina amministrativa, ma le nostre richieste non sono mai state ascoltate. Questo, infatti, è il motivo per il quale io non credo ad una parola quando sardo esterna la volontà di voler instaurare un dialogo con la minoranza. La modalità di non ascolto l'ha accettata per cinque anni con convinzione e più volte ha detto che il ruolo della minoranza è pari a zero. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo prodotto centinaia di dichiarazioni di voto con suggerimenti e interrogazioni che non hanno mai trovato riscontro, se non dopo anni, e senza darcene merito, tra l'altro. Come ad esempio le isole ecologiche che noi proponemmo per porre il rimedio alla situazione dell'abbandono dei rifiuti nelle strade, oppure esprimendo la nostra totale contrarietà alla costruzione dell'ecocentro in una zona di pregio come quella di Boncabino. È come se non bastasse anche l'ingresso del paese. Ha parlato anche della nostra contrarietà all'acquisto dell'ambulanza. Falso! Nessuna contrarietà c'è mai stata all'acquisto dell'ambulanza. Noi abbiamo spiegato più volte che la nostra espressione di voto contrario alle approvazioni di bilancio preventivo e consuntivo e a tutte le sue variazioni hanno una motivazione fondata. C'è praticamente la totale mancanza di informazione e di coinvolgimento nelle scelte e di conseguenza ci siamo tenuti lontano da quegli atti che appunto implicano una responsabilità penale. Dunque, con questi interventi Paolo Sardo ha mostrato la sua spiccata malaffede che esprime una chiara personalità di quell'amministratore inaffidabile che già prima di essere eletto racconta menzogne. Figuriamoci quanto ce ne racconterà quando, se veramente, avrà l'opportunità di diventare sindaco. Allora, sta facendo dell'ambiente il suo cavallo di battaglia. Voglio ricordare a Paolo che ambiente non è solo area marina protetta di cui lui, tra l'altro, non ha nessun merito per la sua istituzione. Ambiente vuol dire anche ecocentro collocato in altro luogo, vuol dire rimediare ai rifiuti sparsi per il territorio, vuol dire spiagge pulite non solo dal mese di luglio, vuol dire tutelare il rena bianca, vuol dire rimediare al disagio degli utenti, soprattutto quelli commerciali per la raccolta differenziata, vuol dire pulizia del centro storico e vuol dire anche trovare quelle strategie per reperire più personale per affrontare la stagione estiva nel settore smaltimento rifiuti. Ma rimango perplessa perché non si è neanche reso conto che alcuni interventi dei suoi candidati hanno rimarcato esclusivamente le criticità riguardanti i settori curati da questi amministratori uscenti che però noi ci ritroviamo in questa lista, è il momento. Dunque inizio a pensare che forse lì ci sia un concentrato di incapaci, naturalmente riferito a questi amministratori che hanno già fatto esperienza, gli altri non mi permetto di considerarli perché chiaramente non li conosco in modo approfondito, dunque me ne guarderei bene. Dunque cito qualche intervento, l'intervento del candidato Brunetto, il quale ci ha illustrato la situazione disastrosa di Cala Grande, alla quale anche noi intendiamo chiaramente porre fine, ma c'è una sostanziale differenza tra noi e loro. Il candidato a sindaco della lista Il Momento ha avuto in qualità di delegato all'ambiente 5 anni di tempo per ripulire Cala Grande dai rifiuti, dalle tende abusive e dai suoi abitanti, ma mi pare che non lo abbia mai fatto. Inoltre ha parlato di un finanziamento di 2 milioni di euro, arrivato tempo fa, per il quale rimprovera un mancato esproprio di Cala Grande. Allora voglio precisare a Paolo Sardo, visto che ha sottolineato che lui è solito studiare gli atti prima di parlare, vorrei ricordargli che il proprietario di Cala Grande ha vinto il ricorso contro l'esproprio fatto dall'amministrazione Nicoli e che la tanto infangata invece amministrazione Bardanzello, per non perdere il finanziamento, appunto riconoscendo il valore ambientale, culturale e turistico di Capotesta, è riuscito a concludere un'ottima operazione. Qual è l'operazione? E' il comodato d'uso per 25 anni di un terreno, tra l'altro molto più vasto di quello che si voleva espropriare e dunque il comune è riuscito a mantenere il finanziamento, con il quale poi aveva iniziato un'opera di riqualificazione della zona. Allora passo all'intervento di Tiziana Cirotto, vice sindaco e assessore ai servizi sociali, la quale ha farfugliato, perché il termine giusto è questo, accusandoci di aver scritto nel programma servizi che vengono già erogati, che sono già in essere. E inoltre ha detto che noi abbiamo la volontà di togliere i sussidi alle famiglie in stato di necessità. Ma mi chiedo come sia possibile che un assessore che ha distribuito soldi a pioggia senza nessun criterio e senza nessun progetto costruttivo e senza nessun progetto atto a cambiare la situazione e a recuperare le persone in stato di disagio, possa avere il coraggio di esprimere giudizi su un programma sociale che prevede tutti gli interventi ai cittadini, proprio ai cittadini appartenenti alle fasce più deboli. Mi chiedo come sia possibile che lei abbia fatto questa scelta, cioè quella di criticare il nostro programma, anziché parlarci di cosa ha fatto lei in questi dieci anni di amministrazione. Dunque io la inviterei a rileggere il nostro programma, nella versione completa, dove c'è un concetto fondamentale, che credo sia molto più importante dell'elenco dei servizi a cui lei ha dato importanza, ed è questo concetto che dice così l'obiettivo deve essere quello di individuare percorsi personalizzati che portino al completo recupero di autonomia da parte delle persone che si rivolgono ai servizi sociali. Questo è il nostro obiettivo, non quello di lasciare le persone nello stato di malessere, ma quello di recuperarle. Dunque vorrei ricordare alla Cirotto che il successo di un assessore ai servizi sociali è espresso in questo concetto. Dunque l'aumento esponenziale della cifra dedicata ai servizi sociali nei suoi dieci anni di mandato è segno di fallimento. In parole semplici vuol dire che non è stata in grado di cambiare la situazione di chi si trova in difficoltà. Ho sentito altri interventi, quelli di Marco Mundula, che è stato un mio alunno, dunque non posso fare altro che salutarlo con grande affetto e congratularmi con lui per questa avventura che ha voluto intraprendere. E poi ha parlato la candidata Stakunetu. Entrambi vivono nelle frazioni e hanno lamentato la mancanza di esecuzione da tempo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'esecuzione di alcuni lavori pubblici, la mancanza di pulizie delle spiagge e dei servizi di vario genere. Questo è da imputare al delegato alle frazioni Pierino Pirodda, che è attuale candidato della lista Il Momento, il quale evidentemente è stato inadempiente al suo mandato. Appunto la prova ne è lo stato in cui versano le frazioni e soprattutto ruoni, agglomerato in cui lui appunto risiede. Credo che Andrea Ognio invece da tempo abbia perso la corsica di vista. Lo ha dimostrato nei suoi tre anni e mezzo di mandato, in cui è stato completamente assente nel ruolo di delegato allo sport. Vi è stata la mancanza totale di interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione, mancanza di progetti ed iniziative sportive. Dunque lo sport è andato avanti solo per la buona volontà dei privati, che infatti si sono prodigati a spendere le loro energie e a contribuire economicamente affinché si potessero fare dei progetti. Nel suo intervento parla di aria marina protetta, esprimendo concetti secondo me assolutamente retorici, perché è chiaro che tutti teniamo alla tutela dell'ambiente, ma non dimentichiamo che la nostra economia è basata sul mare e che vi saranno tantissime attività locali che subiranno grossi danni economici se si continuerà a mantenere un regolamento così restrittivo. Per ultimo, perché non voglio dilungarmi ancora, relativamente al libro dei sogni, faccio da garante io per assicurarvi che quanto scritto nel programma non sono americanate, ma sono progetti innovativi e assolutamente fattibili, non castellinaria, ma uno studio programmatico per dare soluzioni concrete. Faccio da garante e do per certo, assolutamente per certo, che ognuno di noi, all'interno del proprio ruolo, si impegnerà affinché i progetti vengano realizzati in questi cinque anni di mandato. Sono onorata di capeggiare la lista Futuro Diverso, il cui nome non è, come dice un fazioso giornalista locale, uno slogan, ma l'insieme di due parole semplici che stanno al centro del nostro pensiero politico. Il futuro è un concetto aperto che ci rende responsabili delle nostre azioni, perché è da esse che egli dipende. Diverso si contrappone all'identico, volendo con questo distinguere la differente visione politica, economica e sociale tra noi e la lista e il momento. Dunque mi rivolgo a quel famoso giornalista, famoso più che altro per le stupidaggini che dice e per quanto sia fazioso. Dunque il nostro non è uno slogan, ma anche in queste due parole c'è stata una riflessione molto molto profonda. Nel trovare queste due parole c'è stata una riflessione profonda. Glielo ripeto. Mi dispiace, ma sono dovuta ricorrere all'arma della difesa in questi termini. Sicuramente avrei preferito una chiusura di campagna elettorale diversa, anche perché sono convinta che per dimostrare quanto si vale non sia necessario assolutamente denigrare gli altri. Concludo dunque con un pensiero di cui sono sempre più convinta. Per amministrare è necessario ponderare, valutare, avere cautela, essere seri, leali, sinceri, liberi dai dinosauri della politica. Ora vi saluto e lascio la parola ai miei candidati che manifesteranno il loro pensiero relativamente ad alcuni punti programmatici a cui tengono molto. Buona serata. Per fortuna il buon Dio ci ha dato due guance, ma non la terza. Come dice il candidato sindaco della lista numero uno, chissà quante cose faranno di buono quando raggiungeranno la nostra età. Spero tante. Ai posteri, però, la dimostrazione. Ma mi chiedo, non vorranno fare la loro esperienza alle spalle dei cittadini teresini? Però, se mi consentite, vorrei tornare indietro nel tempo. Vorrei mettermi al loro stesso piano. Che cosa facevo quando avevo la loro età? Comandavo un ufficio periferico delle capitanerie di porto o guardia costiera nelle Cinque Terre e difendevo l'ambiente. Sicuramente saprete che lì l'area marina protetta esiste dal 1997. Per inciso, continuo a difenderlo tutt'oggi. A riguardo dell'insinuazione di aver perso la corsica di vista, avete sbagliato in persona, perché sono un marinaio e provengo da una famiglia di marinai, da generazioni. E veniamo al paventato problema dell'erosione della spiaggia, che potrebbe sorgere con la creazione di una banchina per maxi yacht e navi da crociera. A proposito, mi consigliano di dire piccole navi da crociera. È ovvio che non intendevo far atterrare a Santa Teresa la Queen Elizabeth II o la Osis of the Sea. Questa banchina, ribadisco, è totalmente a carico dell'autorità del sistema del mare di Sardegna. Non è altro che il prolungamento della banchina esistente. Cioè, mi spiego meglio, andrebbe a sostituire gli scogli in tufo che si estendono verso nord, quindi senza modificare la linea di costa. Vorrei darvi un ulteriore spunto di riflessione. Ricordo che nel novembre 2017 erano stati assegnati dei finanziamenti da parte della regione Sardegna dall'oscente amministrazione Pigliaru per un aumento della suddetta banchina di circa 25 metri. È lo studio di fattibilità idraulico, mi chiederete voi. Io credo che Pigliaru non avrebbe concesso dei fondi senza questo studio. Come voi tutti saprete, qualche anno fa la banchina commerciale, dove oggi attraccano i traghetti per la Corsica, non esisteva. Ebbene, sono stati rimossi gli scogli preesistenti nella zona ed è stata costruita la banchina. Non mi sembra che questo intervento abbia eroso la spiaggia Rena Bianca. Non si sono limitati a questo. Hanno dragato il fondale per raggiungere le profondità richieste. Già che ci siamo, per non tornarci sopra ulteriormente, affermo che le navi di ultima generazione hanno sistemi di propulsione azimutale chiamati azipod che consentono alle navi di attraccare senza l'ausilio di rimorchiatori. In secondo luogo, le navi che già abbiamo inteso prima, cioè quelle maxi yacht e quelle da crociera, sono costruite e regolarmente ispezionate avvalendosi di alcune convenzioni internazionali e regolamenti comunitari tipo MARPOL, MRV e antifalling, eccetera, che mi consentono di definire tali navi meno inquinanti in proporzione delle imbarcazioni da di porto che solcano i nostri mari. Per quanto riguarda invece il ritorno economico, lascia a voi la valutazione senza parlare dell'immagine e della pubblicità che Santa Teresa conseguirebbe dal punto di vista turistico. A proposito della parola ambiente, che sta diventando un light motive di questa campagna elettorale, soprattutto da parte della lista numero uno, cosa avete previsto per il sistema di depurazione? Considerato che non depura nella maniera appropriata. Già, il risultato non si vede, essendo che le acque reflue scaricano sott'acqua. Che danni ambientali starà facendo? Voi presentate il progetto della spiaggia, Rena Bianca, quale fiore all'occhiello del vostro programma elettorale. Ma se è così importante, perché non è stato elaborato prima, quando il candidato sindaco era assessore all'ambiente dell'amministrazione Pisciotto? Voi volete proteggere Rena Bianca, ma non salvaguardate il mare in cui è immersa. Mi pare che, ad aver perso la corsica di vista, siate voi. Buonasera, facciamo insieme alcune brevi riflessioni, soprattutto relativamente all'ambiente, e in particolar modo al depuratore e all'ecocentro. Il nostro ambizioso progetto è quello di spostare, ricollocare l'attuale depuratore e anche all'ecocentro. L'attuale collocazione dell'ecocentro contrasta enormemente con la nostra visione e con la possibilità di sviluppo dell'area archeologica di Buon Cammino e quindi col conseguente, col concetto di sviluppo ambientale che è basato proprio sul rispetto, sulla salvaguardia dell'ambiente. Il depuratore è una struttura estremamente impattante, collocata in una zona sensibile, che la vetrina d'ingresso è oggi ancora più penalizzata dalla recente intervento di costruzione di un discount limitrofo. Tutto ciò sarà realizzato chiaramente individuando una zona di territorio adeguata e adatta secondo dei criteri e percorsi che saranno decisamente condivisi con l'intera popolazione. È sicuramente un progetto ambizioso e complesso, ma riteniamo che sia assolutamente necessario, soprattutto se vogliamo ragionare in termini di tutela ambientale come volano di un'economia a duratura. Siamo anche coscienti del grosso impegno economico, ma stiamo creando le premesse per cui tutto ciò possa avvenire. Vorrei inoltre brevemente sottolineare senza troppe polemiche che nell'ambito del mio mandato con l'amministrazione Bardanzelli in un periodo che va dal 2005 al 2010 e soprattutto per quanto riguarda gli ultimi tre anni mi sono occupata di problemi e di progetti socio-sanitari e sono estremamente soddisfatta delle iniziative e delle proposte che ancora oggi vedo operative con adeguati profitti. Mi riferisco principalmente al centro polivalente La Fontana che è stato proprio inaugurato in quegli anni, un centro che ha dato il via e ha inaugurato alcune importanti iniziative estremamente vantaggiose non solo per gli giovani ma anche per gli anziani. Infatti sono stati intraprese dei percorsi di recupero che hanno visto un'integrazione sociale dei gruppi di disabili che allora erano ospiti con tutto il resto della nostra comunità. Sono stati avviati inoltre dei progetti relativi a dei laboratori di cucina, progetto per gli anziani di ginnastica dolce, le gite, sogiali oltre che chiaramente anche la festa dell'anziano cosiddetta che si è riproposta poi per diversi anni e che ha avuto molto successo. Inoltre c'è stato anche un importante obiettivo che è la realizzazione della farmacia comunale che ha rivitalizzato sicuramente il borgo di Porto Pozzo e ha dato anche in diverse occasioni un ampio respiro dal punto di vista economico alla nostra società partecipata. È stato ristrutturato l'edificio che oltre ad ospitare la farmacia ospita anche l'ufficio turistico che potrebbe anche essere utilizzato ora vedremo anche per diversi altri scopi. L'intervento, diciamo che in ambito sociale è un intervento molto delicato è urgente e anche complesso anche perché la contingenza che stiamo vivendo sta creando delle grosse difficoltà e sta minacciando seriamente i nostri equilibri emotivi oltre che economici e sociali. Il nostro programma soggio sanitario dettato dal buonsenso e dalla particolare contingenza appunto che stiamo vivendo non può essere bersaglio di misere e sterili considerazioni polemiche politiche e fine a se stesse che non esaltano affatto chi le proclama ma al contrario ne rivelano una mediocre personalità. Se noi esaminiamo nel dettaglio le varie considerazioni fatte al riguardo e le nostre considerazioni in merito le lascio alla mia cara amica Samantha valida collega in questo nuovo percorso. Buonasera a tutti. Durante la presentazione della lista numero 1 l'assessore ai servizi sociali Tiziana Cirotto e attuale vice sindaco ha attaccato il nostro programma socio-sanitario utilizzando frasi del tipo nel programma gli avversari citano il baby parking noi l'abbiamo fatto nel 2011 e con grande sacrificio l'abbiamo trasformato in asilo nido rendendolo un fiore all'occhiello in tutta la gallura e invece gli avversari vogliono tornare indietro e vogliono appunto farlo diventare di nuovo un baby parking al contrario nostro che invece vorremmo renderlo migliore e gratuito scusi assessore ma dove l'ha letto tutto questo? In quale punto del programma c'è scritto che vorremmo tornare indietro e trasformare l'asilo nido in un baby parking? Prendendo in mano il programma potrete leggere le parole esatte che sono state da noi utilizzate nel trattare questo argomento favoriremo la realizzazione di un servizio socioeducativo e di sostegno alla genitorialità ai quali ciascun nucleo familiare potrà accedervi in base alle diverse esigenze ludoteca, nido famiglia, baby parking favorire la realizzazione vuol dire creare un servizio ex novo fine a se stesso e non da sostituire ad un altro servizio italiano Assessore non ci mette in bocca parole che non abbiamo detto e scritto i nonni non ci sono? mamma e papà lavorano tante ore ed i bimbi non possono rimanere soli a casa? dobbiamo fare una visita medica e non vogliamo apportare con noi i nostri piccoli? e così tanti altri esempi di situazioni in cui sarebbe meglio avere un punto d'appoggio a cui affidare i figli per poter fare altro con la tranquillità di sapere che i nostri cuccioli sono in un posto sicuro in cui si stanno magari anche divertendo il baby parking sarà un servizio di custodia oraria dedicato ai bambini dai 13 mesi ai 6 anni dentro il servizio i bambini non sono lasciati a se stessi i piccoli saranno seguiti da educatori professionisti ed educatori professionisti per tutto il tempo che serve la differenza rispetto all'asilo nido cui comunque il baby parking somiglia al punto che anche alcuni asili nido offrono il servizio di baby parking la differenza è che non bisogna iscriversi per accedere e si può entrare e uscire in qualunque momento compatibilmente con gli orari di apertura il baby parking si pagherà ore con prezzi ridotti e molto competitivi mentre per i più assidui ci saranno formule ancora più vantaggiose come l'abbonamento oppure pacchetti prepagati da consumare di volta in volta in base alle proprie necessità il baby parking non sarà il classico castello con scivoli e palloncini colorati ma una struttura gestita da professionisti dove verranno organizzate anche attività e laboratori creativi corsi di lingua straniera e la possibilità di ospitare feste nel baby parking però non si potrà cucinare e distribuire pasti per i bambini il nostro gruppo politico ha già individuato la struttura che potrà essere utilizzata per la realizzazione di tale progetto altra frase dell'assessore ai servizi sociali è stata un altro punto allucinante ci scusiamo per questo assessore sempre dal mio punto di vista che ho riscontrato nell'altro programma è il fatto che venga citata una figura professionale che si chiama Tagmutter sarebbero delle madri che dovrebbero accudire i nostri figli a differenza di quello su cui noi stiamo puntando che è la formazione quindi con degli educatori formati caro assessore è buona norma prima di sparare a zero sui programmi altrui che si informi sugli argomenti che intendi attaccare piuttosto che rischiare di fare un brutto scivolone allucinante non è come dice lei la nostra idea riguardo il nido famiglia ma allucinante la sua scarsa preparazione in merito all'argomento il termine Tagmutter è una parola tedesca significa mamma di giorno infatti questo servizio è nato nei paesi del nord Europa e si è diffuso in Italia nel 2004 si tratta di una donna quasi sempre mamma professionalmente formata qualificata come un'educatrice in costante costante aggiornamento che accoglie questa donna a casa sua un piccolo gruppo di bambini la Tagmutter può ospitare nella propria casa al massimo cinque bambini contemporaneamente il servizio non ha orari predeterminati ma vengono concordati in base ai bisogni dei genitori si pagano solo le ore utilizzate come al nido il bambino non sarà solo ma condividerà le giornate e le attività con altri piccoli in modo ad avere una prima socializzazione all'interno di questo gruppo molto ristretto per diventare Tagmutter occorre pertanto partecipare ad un corso di formazione un corso di formazione questi due progetti dimostrano palesemente la volontà da parte del nostro gruppo di creare nuovi servizi e pertanto nuovi posti di lavoro tale progetto potrebbe essere rimodulato secondo un nuovo schema organizzativo in base alle esigenze della popolazione il comune promuoverà corsi di formazione per la realizzazione di tali progetti mettendo a disposizione gli spazi comunali affinché anche il privato possa parteciparvi come associazione o cooperativa favorendo inoltre l'implementazione del servizio con un contributo iniziale per promuovere un'iniziativa imprenditoriale in fase di start up altra frase dell'assessore ai servizi sociali è questa non vorrei sempre fare una polemica no ma ho letto sempre nel loro programma che c'è un progetto la turri noi gli anziani li abbiamo sempre inclusi hanno addirittura la gestione del centro polivalente la fontana addirittura fanno alcune attività tra cui la gita mentre per loro gli anziani ad oggi con questo progetto la turri dovrebbero pulire le aiuole caro assessore ci ripeteremo ma vorremmo sapere da lei in quale parte del programma c'è scritto tutto questo e con questi termini dalle utilizzati questo è quello che abbiamo scritto progetto la turri predisporre attività finalizzate a favorire il coinvolgimento attivo delle persone anziane in servizi di pubblica utilità per valorizzarne il ruolo sociale compagnia ad altri anziani soli piccole manutenzioni supporto ad iniziative sorveglianza presso parchi e scuole coinvolgendo la consulta degli anziani già operativa sul territorio da alcuni anni caro assessore questo progetto è stato da noi pensato per promuovere tra la comunità degli anziani la formula del tempo attivo ossia un tempo di crescita umana con attività di impegno di servizio e di lavoro sociale attivo questa formula sarà un'alternativa al tipo di tempo che attualmente i nostri anziani trascorrono all'interno del centro polivalente La Fontana tempo libero di svago noi non abbiamo mai detto che questa amministrazione ha escluso gli anziani come lei assessore ha affermato durante il suo comizio noi gli anziani li abbiamo sempre inclusi cosa vuol dire? il nostro gruppo ha semplicemente proposto un altro progetto le attività di impegno saranno concordate con gli stessi anziani e se qualcuno di loro vorresse occuparsi del verde pubblico sarà da noi fortemente sostenuto nella sua iniziativa perché per noi per i valori che ci contraddistinguono non è una vergogna toccare la terra o addirittura poterla lavorare mentre per loro gli anziani dovrebbero pulire le aiuole citazione dell'assessore altra frase dell'assessore dopodiché è uguale parlano di supporto alle famiglie di disabile i servizi sociali sostengono le famiglie non autosufficienti ci scusi assessore se ci ripetiamo ma dove l'ha letto all'interno del nostro programma che noi pensiamo che in tutti questi anni i servizi sociali non abbiano sostenuto le famiglie non autosufficienti siamo consapevoli del grande lavoro e della grande professionalità che contraddistinguono i nostri servizi sociali nella persona della dottoressa Angela Vulpis e di tutti gli operatori e macchina amministrativa che lavorano all'interno della sua area di servizio grazie grazie per esserci sempre stati per essere stati sempre presenti ogni giorno grazie per infrescarle la memoria pertanto ribadiremo quello che abbiamo scritto adotteremo politiche sociali rivolte a fornire aiuti sostanziali alle famiglie in funzione del reddito e ai singoli cittadini che siano in gravi condizioni di necessità e bisogno ci avete sempre accusato che se mai avessimo vinto le elezioni comunali avremmo tagliato gli aiuti di carattere economico quindi in questo punto programmatico non facciamo altro che ribadire la nostra volontà la volontà di continuare a supportare la progettazione degli interventi di carattere economico socio-sanitario nei casi di grave necessità mantenendo un costante dialogo con i servizi sociali altra affermazione a dir poco imbarazzante dell'assessore ai servizi sociali è stata quella rivolta al nostro logo vi riportiamo tali testuali parole io credo che il programma degli avversari regredisca culturalmente lo stesso logo rappresenta una donna con un solo bambino ed io mi stupisco come ancora nel 2020 ci possano essere questi stereotipi di una famiglia io credo che una donna non dobbia essere sobbarcata e credo che il mio gruppo abbia tutte le capacità per migliorare i servizi sociali sostenere la donna i servizi già attuali migliorarli e niente penso che è ancora da dare assessore ma cosa vuole dire cosa sta dicendo la nostra lista futuro diverso è rappresentata da un bellissimo logo ideato e realizzato da dei ragazzi giovanissimi una mamma che tiene il suo bambino per mano entrambi rivolti verso l'orizzonte indicato dalla manina del bambino ci scusi assessore ma di che stereotipi stiamo parlando il nostro logo ha un valore simbolico una madre che tiene per mano il proprio figlio è il simbolo dell'amore infinito uno dei più grandi amori eterni dalla nascita alla morte una mamma tiene il suo bimbo per mano solo per un breve periodo il presente ma il suo cuore l'accompagnerà per tutta la vita verso il futuro verso un futuro diverso mancano ormai pochi giorni al termine del suo mandato da assessore ai servizi sociali e da vice sindaco naturalmente amministrazione Pisciotto e nonostante tutto ha utilizzato la sua presentazione a teatro non per fare un rendiconto consuntivo dei suoi dieci anni amministrativi ma per attaccare e denigrare il nostro programma socio-sanitario durante la sua presentazione ha infatti esordito dicendo avrei voluto farvi una sintesi di quello che è stato il mio percorso poi ho letto il programma avversario e purtroppo farò un discorso al contrario purtroppo o per convenienza assessore aspettandoci una risposta a questo nostro doveroso intervento gradiremo che in questa ci esplicasse quali sono state le sue iniziative durante questi dieci anni di impegno politico di cui gli ultimi cinque da vice sindaco oltre all'aver erogato servizi a carattere istituzionale o avviati dalle precedenti amministrazioni grazie sono nell'umura sono candidata alla carica di consigliere comunale qualche giorno fa quando ho sentito la registrazione della presentazione della lista numero uno mi sono fatto una domanda perché perché avete sentito l'esigenza di attaccare l'altra lista perché avete sentito l'esigenza di andare contro tutto quello che gli altri vogliono fare invece di mettere in piazza quello che voi volete fare cioè non me lo spiego allora portate avanti i vostri progetti avete parlato male di tutti delle precedenti amministrazioni io mi vanto e mi onoro di aver fatto parte della lista e della giunta Vardanzello è fallita fallimentare benissimo sarà fallimentare fatto sta che la giunta Vardanzello ha elaborato fatto lavori e ricevuto finanziamenti per circa 10 milioni e 300 mila euro voi vi siete vantati di aver fatto per 20 milioni di euro voi l'avete fatto in 10 anni noi in 5 anni siete fallimentari pure voi a questo punto non riesco a capire perché viene attaccata l'assistenza sociale vorrei soltanto però avere delle risposte non vedo l'esigenza di attaccare gli altri per far vedere che voi siete migliori dimostratelo basta così buonasera a tutti sono Fabrizio Scolafurro sono un frazionista ho letto e ascoltato i vari video e i vari messaggi che avete che avete messo nel programma sono molto contento che vi siate accorti che in questi 5 anni avete tenuto abbandonato le frazioni sono molto sorpreso anzi forse no furbescamente in politica succede anche quello avete messo le mani avanti avete dichiarato di aver abbandonato le frazioni per aver adempiuto a quelli che erano le opere nel centro abitato beh io sono qua sono fisicamente in persona il malessere che avete creato in questi 5 anni penso che il problema non sia solo un fattore di costruire opere all'interno o fuori del territorio dell'agglomerato penso che il problema sia un altro oltre a non aver adempiuto al programma di 5 anni fa voi avete mancato nella base proprio non avete dialogato con la gente dialogato con le frazioni avevamo un rappresentante per le frazioni anche costui non si è fatto portavoce di tutte quelle che erano le voci popolari bisogna ascoltare tutti sia chi ti vota sia chi non ti vota anzi un politico dovrebbe ascoltare prima chi non ha votato che chi vota Paolo è stato molto il futuro candidato sindaco molto attento in questo il programma verte su una posizione particolare che è quella l'attenzione alle frazioni spero vivamente che questo lo facciamo noi Paolo volevo anche chiederti un'altra cosa hai dichiarato che sei stato attaccato io ho chiesto anche agli altri candidati dove avessimo mai attaccato il vostro programma o a voi direttamente non ho ricevuto nessuna risposta quindi tutti questi attacchi gratuiti che sono stati fatti alla nostra lista e quindi al nostro programma non sarebbe stato più opportuno esplicare il vostro programma davanti a tutti come hai detto anche tu con una linea soft quella della chiarezza e della trasparenza ma forse la tua non era un attacco riferito a noi forse gli attacchi provengono dalle voci che senti in paese forse hai voluto rispondere ai concittadini che ti hanno detto tutto questo ecco questo è un altro punto che mi duole dirti rispondi a quello che senti più opportuno ma non dichiarare che sei stato attaccato perché nessuno è attaccato a te o la tua lista vota futuro diverso lista numero 2 grazie a tutti grazie a tutti